Io sono Matteo Giel, amministratore delegato dell'ArcelonMittal Invesco. Vogliamo dire oggi che siamo della parte di ArcelonMittal contenti del risultato di oggi. Abbiamo fatto insieme con tutti qua un accordo che va bene per tutti. Vogliamo ringraziare naturalmente il ministro Di Maio, tutti i dirigenti del Mise, i commissari e naturalmente tutte le organizzazioni sindicali che hanno lavorato con noi gli ultimi 15 mesi su questo tema. Oggi è naturalmente anche l'inizio di un percorso e di un viaggio lungo per l'ILVA, per fare l'ILVA un'impresa più forte e più pulita nel futuro. Non vediamo l'ora di lavoro con tutti per questo progetto. Grazie mille e a presto.